Signori, buongiorno, buonasera dipende da quando vedrete questo video, spero che siate al mare o in qualche parte diciamo più fresca a godervi queste, tra virgolette, vacanze estive e per chi come me sta a godersi l'afa di Firenze, buon lavoro ragazzi, lo so, vi capisco E allora ragazzi, ovviamente si parla oggi di calcio mercato, ve volevo riportare il video di calcio mercato perché comunque era un pezzettino che non ve lo portavo anche perché con questa storia delle nazionali non c'è stato effettivamente troppe trattative, sono ripartite solo negli ultimi giorni che si sono avute più notizie perché effettivamente molti giocatori e molte notizie erano molto in bilico, tipo per dire discorsi Pezzella-Milenkovic i fatti dei rinnovi di Ribery, Borcavalere e Caceres che fino all'ultimo praticamente erano, boh, non si sai che fanno insomma, ovviamente sono state tutte trattative che si sono viste e definite in questi ultimi giorni e ovviamente è ritornato il calcio mercato, il calcio mercato di Firenze che ora vi vado a, tra virgolette, elencare le trattative più calde o comunque i nomi più caldi del mercato allora ragazzi, ovviamente essendo arrivato italiano si punta, tra virgolette, a una rosa più giovane poi fatemelo sapere anche voi se solo per me è questa l'impressione di ciò rispetto a Gattuso secondo me si sta puntando a una rosa ovviamente sempre più giovane rispetto appunto a quella che aveva in mente Gattuso magari spostandosi soprattutto sulla serie A mentre Gattuso aveva in mente perlomeno dai nomi che erano usciti, che di molti erano veramente belli ma comunque diciamo impossibili da avere tutti a Firenze una rosa molto più europea, internazionale perché comunque erano usciti i nomi tutti di gente dal Portogallo, di Gonzalo Guedes poi erano usciti anche vari nomi magari dalla Premier insomma c'era un sacco di roba mentre adesso per esempio i nomi che sono usciti che sono anche in realtà quasi sempre i soliti però comunque la maggior parte sono nomi che arrivano o potrebbero approdare la Fiorentina soprattutto dalla serie A, ragazzi principalmente più giovani quindi si punta a fare, a costruire una Fiorentina più giovane rispetto magari a quella di adesso comunque rispettando il 4-3-3 che aveva messo Gattuso e che comunque italiano vuole riportare e che io sono molto contento appunto di avere perché ripeto il 3-5-2 ormai mi è rimasto qui non lo posso più vedere allora ragazzi partiamo subito da Pulgar che è una delle possibili diciamo pedine di scambio comunque partenti molto probabilmente del mercato della Fiorentina che se partisse, che ovviamente il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni poi ovviamente c'è da valutare il sostituto perfetto sarebbe Savanier Savanier, non so se lo sto leggendo bene centrompista del Montpellier quindi comunque un giocatore che andrebbe a ricoprire il suo ruolo perfettamente perché fa esattamente quello che praticamente fa Pulgar se non con un filo più di mentalità offensiva perché effettivamente Pulgar se lo vogliamo considerare è un mediano regista poi dipende dai casi perché ovviamente l'abbiamo visto in tante sfaccettature Savanier è proprio un centrompista onestamente regista anche lui centrompista comunque diciamo tutti e due giocatori buoni con i piedi quindi se va via uno viene quest'altro non cambia molto ma comunque sarebbe bello vedere effettivamente un giocatore magari francese a Firenze che noi insomma vista l'esperienza di Veretout non è che ce lo ricordiamo male quindi insomma un altro francese al centrocamp della Fiorentina non è che ci farebbe schifo poi ovviamente vedremo perché Pulgar non è al 100% partente però potrebbe essere una futura pedina di scape per questo mercato poi questa è una bella notizia mi piace sinceramente Cocorin scusate e il suo agente hanno parlato hanno dichiarato insomma che Cocorin appunto vuole rimanere vuole rilanciarsi perché ovviamente è arrivato e parliamoci chiaro non ha fatto niente, non ha fatto nulla perché non era in condizioni non è mai stato in condizioni di allenarsi con il resto della squadra quindi comunque ha voglia di rilanciarsi sono contento perché comunque è un giocatore che nonostante nessuno praticamente lo conosca perché ovviamente viene dalla Russia ha una buona preparazione europea ha una buona esperienza europea perché effettivamente non è di primo pello non ha 20 anni e fortunatamente appunto essendo arrivato a Firenze con una preparazione fisica veramente scarsa era difficile appunto che potesse giocare che potesse scalzare uno come Vlaovic o che potesse entrare titolare di ingamba tesa in squadra perché appunto i posti non c'erano ed era appunto un giocatore fuori forma però sono contento di questa notizia poi ragazzi ovviamente si continua a battere la pista Orsolini veramente contento di questa cosa perché magari magari Riccardo Orsolini a Firenze il Bologna lo valuta una 15 milioni qua a me potrebbe essere un'altra pedina di scambio insieme a Pulgar per questo mercato che forse forse potrebbe entrare magari a gamba tesa lui qua a me a Bologna come pedina di scambio per Orsolini magari con un conguaglio in più che ne so un quame più 5-10 milioni per Orsolini e vi dirò vi dirò Riccardo Orsolini ragazzi lo conosciamo ci ha fatto male anche a noi diverse volte quindi comunque lo conosciamo bene sarebbe veramente un ottimo colpo e comunque c'era anche già dall'idea di prenderlo da quando c'era Gattuso quindi non è un nome nuovo però comunque magari insomma perché non siamo gli unici a volerlo e neanche da questa estate da questa finestra di mercato si continuano ovviamente a battere le piste più difficili di Sensi e Torreira per il centrocampo perché comunque si vuole rinforzare il centrocampo visto appunto che vorrebbe esserci un Pulgar partente e Savanier è semplicemente un'idea al momento non è effettivamente una pista battuta Torreira e Sensi invece sono stati diversi contatti negli anni nei mesi scorsi quindi comunque li conosciamo bene e ci farebbero piacere a tutti penso vederli a giocare alla Fiorentina con la maglia viola oltre a questo appunto sempre continuando a parlare di centrocampo Italiano ha fatto sapere che ovviamente ci saranno tanti rientranti dai prestiti vari appunto della Serie A tra cui Benassi e Duncan che potrebbero sfortunatamente non trovare molto spazio nel centrocampo e nelle idee di gioco di Italiano sinceramente a me questo un po' mi dispiace perché Benassi comunque l'abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni giocatore che non ha queste incredibili caratteristiche tecniche però comunque ci ha sempre dimostrato che sottoporta al fiuto del gol nonostante non sia un attaccante ma è un centrocampista praticamente di movimento un quasi trequartista ci ha sempre fatto appunto comodo e ha sempre dato il massimo per questa maglia Duncan ragazzi mi dispiacerebbe tanto se appunto andasse via da Firenze perché io perlomeno personalmente lo ritengo un giocatore che non ha dimostrato praticamente niente a Firenze e che ha le caratteristiche per dimostrare tanto in realtà ha le caratteristiche fisiche di esperienza che a Sassuolo ha fatto vedere e che effettivamente potrebbe essere un Lirola 2.0 che arriva qui e non dimostra niente perché semplicemente come ruolo come gente che c'è davanti a lui non potrà mai giocare quindi sinceramente me ne dispiace appunto l'italiano ha fatto sapere che oltre a quelli appunto già presenti nel centrocampo della Fiorentina potrebbero trovare molto più spazio addirittura ai ragazzini giovani o male del Venezia insomma e Zurkowski quindi per farvi capire che effettivamente stiamo proprio puntando a una Fiorentina giovane e mandando via o cercando comunque di rimpiazzare degli elementi che effettivamente non sono essenziali come appunto Benassi e Duncan c'è stato appunto poi ragazzi va beh l'incontro di Antonioni con la Fiorentina non me ne voglio divulgare tanto perché il mio pensiero vabbè vuol... cioè io penso vuol conosciate io se volete ve lo dico brevemente Antonioni per me non si tocca e la società ha deciso di riservargli questo trattamento che non è di peso da lui alla fine cioè ha fatto una breve... un breve discorso che ha fatto intendere che comunque è stato tra virgolette non trattato con i guanti ma comunque gli è stato proposto un ruolo tra virgolette marginale nella società che lui essendo figura di riferimento di questa squadra capito? non so se accetterà non si sa insomma quindi discorso molto difficile da Antonioni e speriamo che si risolva tutto per il meglio anche se dubito visti gli ultimi le ultime vicende poi ragazzi Lirola discorso Lirola che è tornato dal Marsiglia doveva rimanere magari doveva con Gattuso probabilmente poteva rimanere poteva essere il titolare della squadra lui personalmente insieme al suo agente in realtà preferirebbero una soluzione migliore quindi per esempio un'Atalanta che per esempio ha intrapreso dei contatti non so se si possa dire però noi coniamo dei nuovi termini ha intrapreso questa strada dei contatti verso Firenze e che appunto lo vuole fortemente essendo appunto Lirola un terzino offensivo e versione per esempio Atebuer quindi comunque di là a Bergamo insomma ne sono pieni come gli uovi e quindi insomma sarebbe contenti di averlo e comunque il Marsiglia dove appunto lui anche personalmente non si è trovato male quindi comunque la Fiorentina lo valuta a 10-12 milioni quindi ora staremmo a vedere le volontà del giocatore e soprattutto della società poi ragazzi questo è una cosa magari ma magari Nastasic che ovviamente lo conosciamo ce lo ricordiamo bene io me lo ricordo benissimo me lo ricordo bene il ragazzino prodigio slavo che praticamente con la retrocessione dello Schalke incredibile tra l'altro perché lo Schalke è proprio retrocesso malissimo e stanno dalla Bundesliga potrebbe ritornare quasi a zero praticamente a Firenze un ragazzo che comunque si è fatto le ossa in Germania si è fatto le ossa e adesso avendo 27 anni è un giocatore prontissimo se ci fosse una partenza sia di Pezzella che di Milenkovic perché appunto Pezzella e Milenkovic come ho detto all'inizio sono delle incognite che ancora non si sa molto probabilmente dall'inizio dovrebbero partire poi adesso non si sa poi forse rimangano poi aspetta se arriva lui però vanno via quindi comunque anche loro sono molto in dubbio mi dispiacerebbe non tanto per Pezzella ma più che altro per Milenkovic per le caratteristiche effettivamente del difensore che ci ha fatto vedere in questi anni a Firenze che semplicemente cioè nel senso io lo ritengo quando lui è in forma al 100% un elemento quasi praticamente essenziale per la difesa poi ovviamente bisognerà vedere perché effettivamente se è sempre giocato la difesa a tre con la difesa a quattro bisogna vedere se questo giocatore appunto rende come giocando magari con altri due centrali al suo fianco quindi in Astasic ragazzi sarebbe un grandissimo colpo io lo rivolrei tantissimo a Firenze che ho poi considerato a zero cioè praticamente a zero gli devi pagare due spicci due banane e una pacca sulla spalla allo Schalke per averlo quindi c'è nel senso se le volontà magari del giocatore sono va bene ritorno volentieri subito si piglia non me ne frega nulla si piglia subito sfuma vabbè Dorsk praticamente l'è andato ufficiale all'Augsburg si è trasferito all'Augsburg ufficialmente quindi era una pista che si poteva battere appunto non se n'è fatto di nulla ma questi sono dettagli si continua a monitorare appunto sia Zaccagni che Zappacosta che comunque sono stati due nomi usciti anche soprattutto Zappacosta quando c'è stato Gattuso quando c'era Gattuso quindi comunque due nomi che la Fiorentina ha continuato a monitorare sta continuando a monitorare che effettivamente per esempio Zappacosta con una possibile partenza di Lirola potrebbe appunto arrivare lui al posto suo giocando magari in una difesa a quattro facendo il terzino proprio naturale lui più un esterno di centro campo però comunque per le caratteristiche del giocatore per l'esplosività l'esplosività la dinamicità del giocatore secondo me potrebbe essere un ruolo che comunque li potrebbe alzare abbastanza Zaccani vabbè lo conosciamo ragazzino giovane del Verona che praticamente lo vuole mezza Italia mezzo mondo penso che viene valutato mi sembra una quindicina 12 milioni che la Fiorentina appunto vorrebbe fortemente perché l'italiano vorrebbe appunto ragazzini giovani nelle sue compagini nella sua rosa e che il Verona però ovviamente chiede questa cifra e se non gliela dai mi dispiace ma non ve lo diamo poi si continuano a battere infine le piste di Mugnoz e Sanchez Mugnoz dal dal Ghent però dal Ghent o dal Genk non me lo ricordo ragazzi insomma dal Belgio però il giocatore mi sembra colombiano se non sbaglio non vorrei o Equadoregno non vorrei sbagliarmi e invece Sanchez difensore spagnolo no o argentino insomma mi sembra del Valadolid che vorrebbe arrivare con una possibile partenza di Milenkovic quindi comunque Milenkovic ancora si vede appunto molto in forza e si cercano delle possibili alternative tra cui Nastasic e questo ragazzino quindi ragazzi io penso di aver finito non ho nient'altro c'era veramente un sacco di roba accumulata poi vabbè discorsi Ribery discorsi Borcavalere Caseres li ho già espresso la mia opinione in in the video che ho visto cioè che ho fatto nelle scorse settimane quindi se magari ve li siete persi potete andarveli a vedere insomma così volentieri se avete del tempo e niente ragazzi io vi invito a dirmi la vostra su questo per ora mercato che è tutto in forza non ci sa niente niente di ufficiale praticamente è arrivato solo Nico Gonzalez che per ora è stato un colpo incredibile considerando la cifra spesa e Burdisso in dirigenza però per ora a livello di campo non è effettivamente arrivato ancora nessuno è vero che c'è stato molto casino con il cambio allenatore però comunque ancora diciamo che la Fiorentina col fatto che tra poco si parte per Moena ha una rosa che è praticamente la stessa anzi con gente di meno tra cui Ribery per esempio di quella dell'anno scorso di quando abbiamo finito quindi bisognerà vedere effettivamente se potrà arrivare qualcuno in questi ultimi giorni prima di partire per Moena o se no se si rimanderà tutto a dopo il ritiro ma è cascato anche il fogliettino non tutti i nomi io niente ragazzi vi invito a farmi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti cosa ne pensate secondo voi la società sta facendo bene a livello diciamo di nomi non a livello vabbè poi fatemi sapere anche il magari il vostro pensiero su Antonioni perché effettivamente quello ci potrei fare un video a parte ma potrebbe durare 20 minuti penso perché ne avrei da dire troppe e quindi proprio evito questo è un video dedicato solo al calcio mercato quindi niente ragazzi fatemi sapere la vostra e niente ci vediamo un prossimo video speriamo magari con qualche ufficialità e magari eh ciao ciao